Ubuntu Cinnamon contro Linux Mint Cinnamon. Canonical include tra le sue derivate ufficiali un'edizione con l'unico ambiente desktop che mancava. Confrontiamo caratteristiche e prestazioni e idee di base che separano Ubuntu Cinnamon da Linux Mint Cinnamon. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Fino a primavera 2023 Ubuntu era rilasciato da Canonical con tutti gli ambienti desktop disponibili nel panorama Linux meno che Cinnamon, quello semplice, tradizionale ed elegante creato intorno a Nomi2 da e per Linux Mint. Ambiente che ha contribuito al successo di un sistema operativo tra i più ricercati nei suoi quasi 18 anni di vita. Con l'uscita di Ubuntu 2304 Canonical promuove il progetto indipendente precedentemente un rimpasto remix e gli assegna il rango di gusto ufficiale. Ho avuto curiosità di provarlo e colto spunto per un confronto alla pari tra Ubuntu Cinnamon in versione LTS, cioè con supporto a lungo termine, e Linux Mint Cinnamon che ha rilasciato solo in versioni LTS. Linux Mint è il mio unico sistema operativo da anni, anche se non sono legato in alcun modo al progetto. Malgrado questo spero di poter fornire un quadro oggettivo e condivisibile di similitudini e differenze tra questi due sistemi operativi. Accedo ai siti web per scaricare le rispettive immagini ISO con cui creare supporti live per provare ed installare il sistema. Le pagine italiane delle derivate di Ubuntu rimandano al sito web ubuntusinnamon.org, evidentemente non aggiornato perché si presenta il remix basato su Ubuntu 2004. Serve una ricerca web per trovare le più recenti all'interno del sito. Il supporto e aggiornamenti per derivate ufficiali basate su Ubuntu LTS però è spesso limitato a tre anni. Grazie a ricerca web conferma del supporto di tre anni nelle note di rilascio della versione 2004 di Ubuntu Cinnamon. Il sito web di Linux Mint è stato rinnovato con l'uscita di Mint 20 e anche questo ne aveva tanto bisogno. Da qui si invita a scaricare l'ultima versione rilasciata nella seconda metà di luglio. Linux Mint ha una base di pacchetti di Ubuntu 22.04 LTS ma il supporto dura cinque anni dal rilascio di ogni versione cosiddetta maggiore. Il file ISO di Ubuntu Cinnamon 2204.2 LTS pesa 5.1 GB. Il file ISO di Linux Mint 21.2 Cinnamon pesa 3 GB netti. I sistemi selezionati sono basati entrambi su Ubuntu 22.04 LTS. Ubuntu Cinnamon riceve aggiornamenti per tre anni dal rilascio della sua base Ubuntu. Linux Mint per cinque anni. Quindi Primavera 2025 per Ubuntu, Primavera 2027 per Mint 21 e successivi punti. Linux Mint Cinnamon 21.2 adotta per impostazione predefinita il kernel 5.15 con cui Ubuntu 22.04 fu rilasciato. Ma nel gestore aggiornamenti si applicano con un click anche il 5.19 o il 6.2. Per superare problemi di installazione con hardware più recenti una versione Edge rilasciata nativamente con il kernel 6.2 dovrebbe risultare disponibile a giorni. Ubuntu Cinnamon 2204.2 ricorre al kernel 5.19 per le sue ISO ma poi vedremo che gli aggiornamenti installano ed applicano il 6.2. Per quanto riguarda le versioni di Cinnamon utilizzate parliamo della 5.2 per Ubuntu Cinnamon 2204 e della 5.8.4 per Linux Mint. Ci sono circa due anni di differenza tra le due. Segnalo però che l'edizione intermedia 2304 di Ubuntu Cinnamon ha introdotto la versione 5.6 di Cinnamon come Debian 12. Passiamo quindi ai requisiti tecnici del computer. Trovare indicazioni ufficiali dei requisiti hardware di Ubuntu non è così immediato. Informazioni si trovano ma sono riportate da riviste o blog del settore. Non mi risulta che vi siano indicazioni specifiche per l'edizione Cinnamon come per quella Mate ad esempio. Ecco i requisiti di Ubuntu. Linux Mint. Processore dual core a 2 GHz, 4 GB di RAM, 25 GB di spazio su disco, 1024 x 768 pixel di risoluzione minima dello schermo. Per Linux Mint una volta selezionata un'edizione per il download si trova un riferimento all'annuncio del rilascio nel blog. Qui sono sempre riportati requisiti minimi e raccomandati. Ecco quelli di Linux Mint 21.2 Cinnamon. 2 GB di RAM, raccomandati almeno 4, 20 GB di spazio su disco, raccomandati almeno 100, 1024 x 768 di risoluzione minima dello schermo. Ho usato il mio vecchio ma performante PC portatile Acer E5 basato su Intel Core i7 di settima generazione, 8 GB di RAM, Nvidia 940 MX con 2 GB di memoria dedicata ed SSD Samsung 870 EVO. Ho testato uno alla volta i sistemi operativi installandoli in single boot. Il programma di installazione di Ubuntu è uno dei fiori all'occhiello di casa, Ubiquiti. Avviata la sessione live si sceglie la lingua e se provare il sistema oppure installarlo subito. La semplicità di questa aggiunta alla base Debian è uno dei principali fattori di successo di Ubuntu. Viene eseguito il programma OS Prober per verificare l'esistenza di partizioni di boot e questo consente di riconoscere la presenza di sistemi preinstallati e intervenire con partizionamenti manuali o in modo automatico, ridimensionando partizioni esistenti con un semplice gesto di trascinamento. Tra le più sostanziose parti di codice che Mint e altre derivazioni non ufficiali prendono in prestito da Ubuntu vi è proprio Ubiquiti. Una versione modificata del programma è infatti alla base dell'installazione di Linux Mint che differisce solo per le slide nella presentazione che accompagna il procedimento. Per un confronto ad armi pari ho deselezionato l'opzione per scaricare gli aggiornamenti in fase di installazione di Ubuntu. Linux Mint 21.2 infatti non lo prevede. Ho incluso i driver e codec multimediali come faccio con Mint e selezionato l'installazione completa perché una installazione minima non è prevista in Linux Mint. Come inoltre raccomando sempre installare Linux con una connessione di rete attiva per essere certo che vengano installate tutte le traduzioni che nella ISO non sono inserite per ogni lingua per intero. Quanto ai tempi di installazione Ubuntu Cinnamon ha richiesto 40 minuti e a dispetto delle impostazioni lo scaricamento di ulteriori 1,6 GB di dati prima del riavvio. Ho provato ad installarlo dopo qualche giorno nel mio PC fisso ma ha richiesto 34 minuti. Su questo poi Ubuntu non pareva riconoscere il dongle Wifi Bluetooth, la Morele, che non richiede driver e che in un paio di anni non ha mai avuto problemi con alcuna distro. L'installazione di Linux Mint impiega 8 minuti prima del riavvio da disco fisso. Ora devo sottolineare che i tempi per Ubuntu o altre derivate anche non ufficiali richiedono tempi significativi in tutti i computer miei e altrui in cui li ho installati. Non so spiegare il perché siano richiesti quasi 20 minuti prima di avviare la copia dei dati su disco apparentemente in attesa di configurare software non free, mentre Linux Mint dalla versione 20.1 in poi ne impieghi meno di 2. Stesso computer, stessa connessione. Con Ubuntu ho anche eseguito il test per la ricerca automatica del server migliore e ne ha impostato uno ubicato in Svezia. Quanto a Mint il meccanismo è simile anche se non automatico. I server sono ordinabili per velocità rispetto alla propria posizione e confermo che non sempre quelli italiani sono i più performanti. A causa di un problema che impediva l'avvio dello Snap Store, dopo un'ora circa di tentativi culminati con la rimozione e reinstallazione di Snap senza risultati, ho riformattato il mio Acer, includendo gli aggiornamenti in fase di installazione ed il problema è sparito. Curioso che la seconda installazione di Ubuntu Cinnamon abbia identificato la precedente come Mac OS X. Il primo avvio di Ubuntu Cinnamon però mi ha sorpreso positivamente, perché comunica l'identità delle distribuzioni Canonical unita al desktop ed al menu tipici di Cinnamon con un tema scuro predefinito. Si ha a che fare con una personalizzazione stilistica che non avevo ancora visto al di fuori di Linux Mint. Installare Cinnamon in altri distro come Debian 12 di cui ho parlato di recente provoca infatti una sensazione di estrema tristezza, perché l'aspetto non è stilizzato in alcun modo, non vi sono temi ed icone se non quello di base, AD o AITA assai datato. Anche se si può intervenire successivamente, vedere Cinnamon nudo non fa bene all'immagine di tale ambiente desktop, spesso indicato come antiquato e non attraente. In Ubuntu Cinnamon, con i temi Yaru tipici di Ubuntu, si assiste ad un tentativo secondo me assai riuscito di uniformare l'ambiente desktop cinnamon alle specificità di Ubuntu, con risultati veramente gradevoli. Nemmeno con gli ambienti KDE o quelli un po' all'osso di Ubuntu e Xubuntu, si era mai vista l'identità di Ubuntu nelle sue derivate. Al primo avvio di Linux Mint 21.2 Cinnamon si trova la schermata di benvenuto che riporta documentazione e una serie di primi passi suggeriti per la post installazione, la configurazione di base e la personalizzazione. Questa schermata non è presente in Ubuntu Cinnamon né nelle altre distro che adottano Cinnamon. Chi abbia visto Linux Mint negli anni passati al primo avvio troverà che il colore verde predefinito è stato sostituito da un misto giallo-azzurro perché la comunità degli utenti ha comunicato la propria preferenza per questo tema. Nella recensione di Linux Mint 21.2 ho raccontato dei drastici interventi per rimodernare l'aspetto senza svelire la natura di desktop tradizionale in stile Windows. In ogni caso i tempi di avvio in single boot sono simili e per entrambi i sistemi iperattivi nell'ordine di una dozzina di secondi nel mio notebook Acer. Qualche minuto dopo il primo avvio Ubuntu Cinnamon mi segnala l'esistenza di 652 MB di aggiornamenti rilasciati da installare, che hanno richiesto ulteriori 20 minuti per essere applicati ed invitarmi al riavvio, dopo il quale ho scoperto che è stato applicato il kernel 6.2. Non è bastato però perché l'applicazione software, una volta aperta, mi ha invitato ad aggiornare il sistema ed ho dovuto scaricare ulteriori 455 MB prima di procedere ad un ulteriore riavvio. Quasi 3 GB che si aggiungono ai 5 della ISO. In Linux Mint una notifica nella barra delle applet mostra il pallino rosso che indica la disponibilità di aggiornamenti. Ma anche la schermata di benvenuto invita, come prima cosa, ad effettuare gli aggiornamenti. Si apre il gestore aggiornamenti, differente da quelle di Ubuntu. L'utente riceve indicazioni sull'applicazione ed invita eventualmente a modificare le origini dei repository in modo da passare ad archivi web più vicini e rapidi prima di effettuare aggiornamenti. La quantità di aggiornamenti ammonta a 630 MB in totale. Ma va detto che in Linux Mint sono preimpostati solo driver, grafici, open source. La schermata di benvenuto invita a verificare la disponibilità di driver ma sta all'utente decidere se applicarne di proprietari. Se vuoi l'ultimo driver proprietario Nvidia, attualmente il 535, basta un click ma devi scaricare circa 560 MB di dati e attendere qualche minuto prima di riavviare. Ubuntu Cinnamon, al primo avvio, senza chiedermi nulla, aveva già impostato automaticamente il driver Nvidia 535 alla mia nuova i40mx. Completati gli aggiornamenti, di entrambi i sistemi operativi provvedo ad un riavvio. Senza alcuna ulteriore installazione, Ubuntu Cinnamon pare impegnare circa 1,3 GB di memoria RAM durante l'inattività. L'installazione automatica non prevede una partizione swap ma la creazione di un file di 2,4 GB. Linux Mint Cinnamon, aggiornato, impegna circa 920 MB di RAM. Anche Mint non prevede la creazione automatica di una partizione swap ma un file di 2,1 GB. Sfoglio il menu di Ubuntu e da navigato, utente di Linux Mint Cinnamon, noto programmi estranei al mio sistema operativo. Tra cui Dejadoop 42.9 per il backup, GTK hash per la verifica di firme dei file ISO e visualizzatore text info tra gli accessori. Nella sezione audio-video poi troviamo celluloid per i video e rhythmbox per l'ascolto ed organizzazione di librerie musicali. Ubuntu Cinnamon prevede una categoria giochi con alcuni programmi preinstallati. Nella sezione grafica c'è nome foto, Gimp 2.10, poi sia Gthumb che Shotwell per organizzare le foto. Tra i programmi internet gli immancabili Thunderbird e Firefox, oltre a Remmina per il desktop remoto e Transmission per i torrent. La sezione ufficio è dominata dal calendario di GNOME e da LibreOffice in versione 7.3 con il tema elementari predefinito e tutti gli altri temi modificabili già preinstallati. Sotto amministrazione i due sistemi differiscono per la presenza di SnapStore e del centro software per i pacchetti DEB in Ubuntu e di gestore applicazioni per Mint basato sul centro software di Ubuntu, dei suoi DEB, di quelli di Mint e delle app aggiornatissime in Flatpak. Tra poco approfondiamo. Al monitor di sistema di GNOME, task manager predefinito anche di Linux Mint, Ubuntu Cinnamon affianca anche il tradizionale Htop. Ma molte sono le similitudini con la dotazione di Linux Mint quanto a visualizzatore di foto e documenti, Simple Scan per le scansioni e tutti gli strumenti di analisi dei dischi per la formattazione di supporti, editor di testo, Synaptic come interfaccia grafica per APT, calcolatrice, gestore di archivi compressi e via discorrendo. Passando a Linux Mint, sotto accessori, oltre ai programmi previsti anche da Ubuntu, abbiamo le note, Redshift per il filtro luce bluserale, Balky, chiamato rinnominatore di file per rinominare file in serie, la tastiera su schermo onboard e Warpinator, programma realizzato dal team di Linux Mint per la condivisione file in rete locale senza configurazioni. Linux Mint non prevede DejaDoop ma strumento di backup, rudimentale ma efficace. Permette di esportare il contenuto della cartella home dell'utente ed una lista di programmi installati per consentire di ripristinarli in una successiva installazione. La verifica delle firme dei file non richiede GTK hash per essere eseguita senza terminale, perché il file manager Nemo la integra nativamente senza estensioni. La sezione audio video di Linux Mint, oltre a Celluloid e Rhythmbox, prevede anche Hypnotix, programma esclusivo di Mint per la visione di tv di tutto il mondo via internet. Nella sezione grafica non troviamo GThumb o Shotwell, ma Pix, programma di Linux Mint appena completamente rinnovato sulla base di GThumb. Da qualche anno Linux Mint ha tolto GIMP ed inserito il più semplice Drawing, un programma più semplice per il disegno e fotoritocco di base che affianca le già tante possibilità di modifica di Pix. La sezione Internet di Linux Mint, oltre a Thunderbird e Firefox, prevede applicazioni web per gestire come programmi autonomi i siti web di uso frequente. C'è anche XChat per contattare l'assistenza di volontari tramite il canale IRC ufficiale di Mint. Linux Mint ha abbandonato da anni la preinstallazione di giochi. Nella sezione Ufficio di Mint, oltre LibreOffice 7.3, troviamo Thingy, chiamato in italiano Libreria. Raccoglie file di testo, documenti LibreOffice, PDF, manga ed ebook aperti di recente, mantenendo traccia dei progressi di lettura. Inoltre Linux Mint prevede timeshift per la creazione di punti di ripristino del sistema. Applicazione diffusa in ambiente Linux è stata rilevata nella gestione proprio dal team di Linux Mint perché il suo ideatore ne aveva abbandonato lo sviluppo. Confermando il ruolo strategico per una distribuzione che ambisce a fornire affidabilità nel solco della migliore tradizione Debian. In Ubuntu manca registri per la consultazione da interfaccia grafica dei log. L'applicazione Informazioni di Sistema rende inoltre possibile selezionare con un click l'output del comando INXI o caricarla nel web, utile per semplificare le richieste di assistenza nei forum. In definitiva, a parte pochi giochini, GIMP e l'assenza di programmi caratteristici di Mint, quest'ultima ha una dotazione lievemente superiore di software. Ma il file di installazione di Mint è inferiore di oltre 2 GB rispetto a quello di Ubuntu Cinnamon, forse per la presenza di pacchetti Snap più ingombranti delle controparti DEB. Gli utenti di entrambi i sistemi incontrano quindi versioni stilizzate dell'ambiente desktop, a differenza di tutte le alte distro che adottano il tema ADUAITA. Ma in entrambi i casi gli utenti hanno a disposizione il file manager Nemo, integrabile con decine di ulteriori estensioni. Incontrano applet, desklet e temi che sono integrabili con un click. Ho parlato di questi interessantissimi aspetti in Nemo, il file manager di Linux Mint Cinnamon, e in personalizzare Linux Mint Cinnamon. Purtroppo ho però verificato che 5 o 6 tra desklet e applet, che da anni uso con Linux Mint, mandano sistematicamente in crash Cinnamon in Ubuntu. Ma lo stesso non succede con Debian 12. Peccato che un utente possa farsi un'idea sbagliata di Cinnamon per ragioni addebitabili all'edizione Ubuntu. Come dicevo tra le differenze più nette e pesanti tra i due sistemi operativi sono parte dei meccanismi di gestione e installazione di pacchetti software. Per integrare programmi in Ubuntu hai l'applicazione software per i pacchetti DEB che Canonical stabilizza dai programmi nel ramo unstable di Debian. Ma anche lo SnapStore, che prevede programmi impacchettati assieme a tutte le cosiddette dipendenze a garanzia di funzionamento sicuro per il sistema e senza conflitti, in qualunque distribuzione Linux. Le applicazioni Snap avrebbero molteplici vantaggi e svantaggi dei flatpack non previsti nell'installazione di Ubuntu per ragioni di concorrenza. In Linux Mint 21.2 invece i flatpack di FlatHub sono perfettamente integrati nel gestore applicazioni e facilmente riconoscibili dagli altri. Non è questo il luogo per approfondire l'argomento e non è detto che ad un utente comune interessi il meccanismo con cui i programmi sono installati, ma lo farò per rendere più consapevoli gli utenti di Ubuntu che non sanno bene cosa sia Snap. In Linux Mint lo store Snap è letteralmente bandito, dal momento che anche i browser Firefox e Chromium sono stati rimossi dai repository di Ubuntu in favore delle versioni Snap, il team di Linux Mint li compila in autonomia dal sorgente e li mette a disposizione degli utenti nei propri repository. Riassumendo, le affinità tra i due sistemi operativi riguardano anzitutto una base comune di pacchetti software per l'installazione del sistema, per il centro software dei pacchetti DEB e per la gestione di alcuni servizi. Oltre che l'adozione del medesimo ambiente desktop, seppur in versioni differenti. Questo conferisce ai due sistemi un aspetto simile pur con le personalizzazioni che ne vengono fatte dai rispettivi team di sviluppo. Insomma, Mint prende e toglie da Ubuntu e Ubuntu prende e toglie da Mint. Fa parte della natura stessa dell'open source. Un altro aspetto fondamentale che unisce le due distro è la grandezza e generosità delle rispettive comunità di utenti, anche nei confronti di nuovi arrivati ed inesperti con Linux. Malgrado Ubuntu raccolga attorno a sé un enorme seguito, non si deve pensare che quello di Linux Mint, specie a livello internazionale, sia proporzionalmente inferiore. Documentazione, tutorial, risposte a richieste di supporto nei forum ufficiali sono aspetti cui gli utenti di entrambe le distro in tutte le lingue sono felicemente abituati. In entrambi i casi la conoscenza dell'inglese accresce all'ennesima potenza le possibilità. Ma le similitudini finiscono qui, perché anzitutto Ubuntu viene da Canonical Ltd, azienda con scopo di lucro che nel 2020 ha fatturato 144 milioni di dollari. Ha la potenza commerciale per sostenere un progetto open source da cui però prevede di trarre guadagno. Linux Mint nasce dall'iniziativa di un programmatore che ha raccolto attorno a sé qualche decina di altri programmatori e li sostiene grazie ad alcuni sponsor, a donazioni, ad accordi con Mozilla per l'integrazione di Firefox e di altri motori di ricerca. Mi verrebbe da ribadire che l'elemento sostanziale che differenzia le due distro è l'assenza dello SnapStore da Linux Mint e di quello Flathab da Ubuntu, oltre al supporto di due anni superiore per Linux Mint rispetto a qualunque altra derivata ufficiale di Ubuntu. In ogni caso chiunque può accedere a GitHub ed esplorare i 56 milioni di progetti attualmente presenti, poi dicono che per Linux non ci sono programmi. Tutti possono acquistare ed installare software a pagamento destinato a Linux o tenersi ed eseguire da una chiavetta su qualunque PC Linux e senza alcuna necessità di installazione né timori di conflitti le applicazioni portatili in formato AppImage, che rispetto a programmi installati in Snap o Flatpak beneficiano di molti medesimi vantaggi pur mantenendo le dimensioni del file estremamente ridotte. Insomma, quale è migliore? So rispondere alla domanda solo in base ai miei gusti, alle mie esigenze e alla mia simpatia. Perciò non posso decidere per te. Ubuntu Cinnamon è l'ennesima distro che metto alla prova. Come le precedenti non è in grado di farmi cambiare sistema operativo, che resta Linux Mint Cinnamon. In linea di principio tra una distribuzione che non adotta Snap e una che lo adotta, preferisco sempre la prima. Spiace vedere che anche Firefox si trovi ormai solo in formato Snap. Qualche problema l'ho incontrato alla prima installazione di Ubuntu ed ho visto che Cinnamon, anche se ben stilizzato e personalizzato, non è ben integrato nelle sue componenti tipiche come applet, desklet ed estensioni che usate in Linux Mint non creano problemi. Qui va fatto del lavoro perché l'esperienza desktop di Linux Mint non si raggiunge. Inoltre non sono così sicuro, visto che ho scaricato una LTS, che sia bene avere applicato un kernel 6.2 con base differente dal 5.15 del rilascio di Ubuntu 2204. O perlomeno un utente dovrebbe essere informato. Un utente sceglie una LTS dopo aver testato il proprio hardware con il kernel 5.15 e poi corre il rischio di non avere più supporto per il vecchio hardware. Penso si dovrebbe venire anche avvisati dell'applicazione automatica di driver videoproprietari. Inoltre l'immagine ISO pesa quasi quanto quella di Windows. Raramente si riesce ad installare Ubuntu anche in una macchina virtuale in meno di 35 o 40 minuti, con successivi scaricamenti e riavvii. E' un comportamento simile a quello di Windows. Ma questo con Linux Mint non succede. L'installazione è rapidissima, specie con SSD in luogo di disco meccanico. Seguire i primi passi per la configurazione minima richiede 10 minuti e poco più. Questi aspetti critici, se già mi conosci, potevi aspettarteli. Magari non ti aspetti che io ammetta di apprezzare questa novità ufficiale di Canonical. Apprezzo che Canonical abbia infranto il tabù dell'assenza di una edizione Cinnamon. Più che una minaccia la vedo come un riconoscimento del lavoro del team di Mint e del promotore del remix di Ubuntu. Trovo che mai prima di ora un'edizione rispecchi la natura caratterizzante di Ubuntu allineandosi all'aspetto dell'edizione principale basata su GNOME. Penso possa avere successo tra nuovi utenti Linux che, lasciando Windows, sono talvolta un po' disorientati dall'ambiente GNOME dell'edizione Ammiraglia. Ma potrebbe intercettare anche utenti da altri gusti ufficiali di Ubuntu come l'edizione Bagi. A parte questo, se mi chiedi se questo progetto possa strappare utenti a Linux Mint direi proprio di no. Se dovessi scommettere un caffè direi casomai il contrario. Utenti di Ubuntu Cinnamon potrebbero voler provare Linux Mint. Per curiosità, per provare Cinnamon lì dove nasce e funziona perfettamente e mantiene un aspetto sobrio e moderno o per la differente filosofia e per liberarsi di Snap. La mia derivata ufficiale di Ubuntu resta l'edizione Mate ed apprezzo il lavoro del leader del progetto Team Winpress. Per ogni altro ambiente desktop preferisco altre distribuzioni Linux ad Ubuntu. In conclusione va però detto che Canonical ha impresso all'evoluzione e diffusione di Linux in ambito desktop una spinta mostruosa. Ne hanno beneficiato Linux Mint, ElementarOS, ZorinOS, PopOS e tantissime altre. O meglio, sono i relativi utenti che ne hanno beneficiato. Questi hanno trovato validissime soluzioni alternative ai sistemi operativi che in precedenza li legavano a tracciamenti d'uso, a particolari software e formati oppure a cambiare computer ancora perfettamente in forma. Rendiamo grazie a Linux e all'open source in generale, quindi, anche per la novità di Ubuntu Cinnamon. Amen. Grazie per il tuo tempo e alla prossima.